Musica Un motore Partito 8-4 prima Azione Se gli è riuscita a far fare il cenno di abbracciarlo che non sembra una roba ridicola ve lo faccio fare Se no si guardano solo i denti e lei fa un passo rosso di lui Perché come faresti per dire vieni a darmi un abbraccio E sto fermo faccio io il passo No perché è lei che deve fare il passo verso di te Giusto perché lei al passo ritorna di nuovo nel salotto Giusto nel momento in cui fa il passo Ecco perché anche il libro non si vede Nel momento in cui lui fa il passo, lei fa il passo, lei ritorna di nuovo nel salotto Cioè muore di piatti e lei in salotto Io lascierei solo il sorriso perché se no l'abbraccio non sta un po' troppo di tipo venita Ma è quello che io voglio dire Allora, figliola Sì, salva Sì, salva C'è la chiesa di sposo Papa Francesco così Scusate Sì, con la Bibbia in mano Due roncellino si ferma anche qua Anche lo c'è Motore Pronto? 4-6 seconda pick-up Motore Uno, due, prima Azione Ro KHC Allora Fli Asia Grazie Allora Grazie a tutti